Giovani senza esperienza in cerca di una prima esperienza lavorativa che viene sistematicamente negata in quanto privi di esperienza Voilà! Ecco la fotografia della precarietà senza fine completa il quadro della immarginazione lavorativa dei giovani la mancanza di conoscenza diretta delle dinamiche dei sistemi organizzativi e produttivi. In questo particolare contesto economico e sociale la scuola può e deve essere al fianco dei suoi studenti e delle loro famiglie, affrontando il tema della formazione in azienda con percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro capace di proiettarsi oltre lo stage formativo obbligatorio costruendo a priori tra aziende ed istituzioni scolastiche nuove forme di comunicazione e collaborazione l'obiettivo è l'azienda come libro di testo per far comprendere ai discenti le competenze richieste dalle imprese e al contempo introdurli al concetto di formazione continua e specializzata e al contempo introdurli al concetto Nell'ambito del progetto l'azione dell'immagine legata al sour fair è a cura dell'associazione Alassio Donne l'azienda come libro di testo Alassio Donne atteggiamento, competenze, aspetto saper essere, saper fare, saper presentarsi